Buonasera cari amici, bentrovati di nuovo insieme con il nostro appuntamento con Confagricoltura News, vado subito a presentare, salutare l'ospite di questa sera in collegamento dalla sede di Confagricoltura Mantua, Massimo Battisti, vice direttore di Confagricoltura. Ciao Massimo, bentrovato. Ciao Andrea, buonasera a tutti. Allora parliamo di uno dei tanti problemi che ha il nostro paese, cioè quello delle lungaggini burocratiche e parliamo di un argomento che ha veramente dell'incredibile adesso che andremo a spiegarlo. Parliamo di aiuti covid alle filiere agricole. Ci sono 3 milioni di euro Massimo che sono fermi a Roma a causa della burocrazia e di questi tempi, visti i chiari di luna che ci sono e visti i grossi problemi, è qualcosa veramente di incredibile. Di cosa si tratta? È veramente una vicenda tutta italiana che purtroppo conferma la nostra non competitività quando dobbiamo poi provvedere a stanziare i fondi. Si tratta, dobbiamo andare indietro addirittura a maggio 2020 quando la Ministra Bellanova con un decreto istitui un fondo per le filiere vegetali e zootenniche, in particolare i suini, i vitelli, la carne bianca, gli ovi caprini, i conigli e per i vegetali il mais e le culture proteiche. Erano soldi che dovevano arrivare abbastanza velocemente perché dovevano indenizzare i danni subiti dagli agricoltori e dai produttori per la crisi Covid. Poi a ottobre sono fatte queste domande, le promesse è che i soldi dovevano arrivare velocemente entro dicembre, dicembre non sono arrivati, siamo andati a rassicurazioni che ci dicevano per metà febbraio che dovevano arrivare sempre questi fondi, non sono ancora arrivati e siamo ormai a fine marzo e al momento non si vede un euro. Sono circa 3 milioni che aspettano ai produttori di confericoltura a Mantua e se tutto va bene arriveranno praticamente dopo un anno in cui sono stato istituito questo fondo. Sembra veramente scandaloso una lungaggine di questo tipo, anche perché le imprese hanno bisogno di soldi subito, non possono aspettare tutto questo tempo. Tra l'altro adesso si aprirà il bando per i vitelloni da carne che erano rimasti esclusi e non vorremmo che si ripetesse la stessa farsa anche per questo settore, questo comparto produttivo. Assolutamente, purtroppo però mi sembra di capire anche Massimo che ci sia poco da fare nel senso che più di sollecitare, più di tenere diciamo il fiato sul collo a chi di dovere e poi gli allevatori insomma devono un po' rassegnarsi a queste lungaggini burocratiche che purtroppo sono tante volte spesso accostate al nostro paese ma ha ragione vedendo quello che succede. È così infatti. Va bene Massimo, è finito il tempo a nostra disposizione, grazie per essere stato nostro ospite. Agli amici a casa invece diamo appuntamento come di consueto alla prossima settimana con un nuovo appuntamento con Confagricoltura News. Arrivederci. Grazie a tutti.